carissimi amici è davvero una grande gioia incontrarci oggi nell'ottavo giorno della nostra novena in preparazione al santo natale oggi rifletteremo sui santi innocenti e vedremo appunto quanto è bella la testimonianza di questi santi che anche se erano bambini hanno dato una bellissima testimonianza di gesù quindi ci prepariamo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ci mettiamo alla presenza del signore in preghiera chiedendo l'aiuto della vergine maria che lei ci aiuti a conoscere gesù a conoscerlo sempre di più e ad amarlo per testimoniare con la nostra vita con le nostre parole con i nostri gesti in ogni istante della nostra vita testimoniare che lui è il nostro salvatore il nostro signore il nostro tutto cantiamo a lei chiedendo questa grazia grazie di amare gesù la grazia di vivere per lui la grazia davvero di far vedere al mondo che noi siamo cristiani che siamo seguati seguaci di gesù per la nostra vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Per me, che te si dicono, per te il canto e la danza, Dio sarà e non sarà mai l'abbastanza. Gine o tale sfide, un'ombra tra i miei rupi, legge ad un viso, di Dio sei il paradiso, Gine o chiuso, un'ombra tra i miei rupi, legge ad un viso, di Dio sei il paradiso, Gine o chiuso, un'ombra tra i miei rupi, legge ad un viso, di Dio sei tutta bella, sei tutta immagolata. Dal Vangelo secondo Matteo Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in rama, un pianto e un lamento grandi. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo di Matteo dove ci viene raccontato come la Sacra Famiglia ha dovuto scappare da Betlemme perché Erode voleva uccidere il bambino Gesù, il re promesso dai profetti. Aveva paura che Gesù gli rubasse il regno, il suo potere. Invece Gesù non gli interessava i regni della terra. Lui vuole regnare sì nei nostri cuori, nella nostra vita. E quindi Erode non sapendo proprio chi era il bambino ha voluto quindi uccidere tutti quanti. Ha fatto questo gesto così cattivo, così egoista. Ma nella nostra vita qualche volta possiamo anche noi agire come Erode perché vogliamo difendere il nostro spazio, il nostro regno, i nostri interessi. Quindi possiamo sparlare degli altri, metterli in cattiva luce, li possiamo alle volte uccidere dentro con i nostri gesti, i nostri sguardi, il nostro comportamento. Tutto questo per difendere i nostri interessi. Quindi che possiamo davvero imparare da Gesù che lui anche se re di tutto il mondo, di tutto l'universo, lui il creatore, lui l'onipotente, lui che ha tutto nelle sue mani, si è fatto uno di noi. Ha rinunciato tutta questa gloria per venire incontro a ciascuno di noi. Che anche noi sappiamo davvero rinunciare a noi stessi, il nostro egoismo per essere più vicini agli altri. Che possiamo poi avere fiducia in lui. Immaginate Maria e Giuseppe che dovevano scappare, non è che capivano il cento per cento di tutte le cose, ma hanno avuto fiducia nella voce dell'angelo, del messaggero di Dio e si sono rifugiati in Egitto. Che anche noi nei momenti di difficoltà, nei momenti di avversità, dove forse non capiamo tutto, forse dobbiamo perdere qualcosa, ma che possiamo avere fiducia nel Signore e accoglierlo nel nostro cuore. Lui, il principe della pace, lui che ci porta davvero questa pace che il mondo non ci può dare. Che possiamo anche noi diventare strumenti di pace, dopo aver accolto Gesù, lui la vera pace, che possiamo trasmetterla agli altri, ai nostri familiari, ai nostri amici, nel nostro ambiente di lavoro. E vedremo che qualche volta perdere e guadagnare molto di più, perché il Signore ci dà il regno vero, il regno che dura in eterno, che è il paradiso, che è la vita insieme a lui. Quindi che possiamo coltivare questa fiducia in Dio e poi il desiderio della patria eterna. Santa Teresina, pensando ai santi innocenti, dirà, io spero di unirmi a loro. Quindi anche noi, anch'io, spero di unirmi a questo cuore degli angeli, dei santi, dei martiri. Che le piccole sofferenze offerte a Dio ogni giorno ci faccia crescere sempre di più in questo desiderio di unirci a loro per cantare in eterno gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ecco adesso con molta semplicità che possiamo fare la nostra preghiera, chiedendo a Dio questo dono, il dono della fiducia in Lui. Chiediamo al Signore che ci possiamo davvero metterci nelle sue mani, abbandonarci in Lui. Come Gesù bambino, che possiamo farci piccoli, che possiamo davvero essere pronti a compiere la volontà del Padre. E chiediamo anche il dono della pace nel mondo. Ti chiediamo, Signore Gesù, di visitare il mondo intero, di visitare le famiglie, di visitare tutte le persone che portano nel cuore il desiderio di vendetta. Ti chiediamo, Signore, per le persone che hanno il rancore nel cuore, per le persone che hanno l'odio nel cuore, Signore, che la Tua grazia, la Tua presenza, la Tua pace possa arrivare nel mondo intero. Ti chiediamo, Gesù, dona la pace al mondo, per tutti i bambini che soffrono ancora nelle guerre, che sono ancora degli innocenti che soffrono, dei bambini violentati, dei bambini non accolti. Noi ti chiediamo, Gesù, la Tua misericordia, la Tua pace. Ascolta, oh Padre, le preghiere che Ti eleviamo nell'attesa della venuta del Tuo Figlio Gesù. Donaci la grazia di celebrare con fede viva e sincero amore il profondo mistero dell'Incarnazione, per gioire eternamente quando verrà nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio ha mandato il suo figlio di soli, perché avessimo la vita per noi. È Dio che per primo a sento noi, suo figlio sofferto per i nostri peccati, che aveva in casa. Dio ha mandato il suo figlio di soli, perché avessimo la vita per noi. Dio ha mandato il suo figlio di soli, perché avessimo la vita per noi. De Amore, Dio, De Amore, Dio, De Amore. Divina pienità, perfetta carità, Dio, De Amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, De Amore, Dio, De Amore.